In questi giorni sono uscite delle indiscrezioni sulla stampa che parlano di un buco di bilancio di 150 mila euro. Prima di tutto è vera questa notizia e poi che cosa comporta questo discorso dei 150 mila euro? Il bilancio 2019 non è ancora stato approvato, non è ancora ultimato, quindi sono dati ipotetici questi che stanno circolando. Mi piacerebbe capire chi li sta facendo circolare da dove ha trovato queste informazioni. Quindi abbiamo chiesto ai soci come società di impegnarsi a fare uno sforzo per ricapitalizzare l'azienda. In assemblea dei soci abbiamo condiviso il percorso, un percorso che vedrà un aumento della quota capitale per circa un milione di euro. Grazie. 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 Grazie.